Allora, con questo sottofondo musicale meraviglioso di PAPIC facciamo l'inzionata dei funghi, porcini, di italiano, sentite che roba! Poi, mentuccia, limone, parmigiano, pepe e olio del mio amico Giorgio Franci e adesso iniziamo, veloci, pochissimo tempo ci abbiamo e ci mettiamo, noi pochissimo ci mettiamo come vogliamo, grosso, per lungo, così vai, così guardate che meraviglia e vai, senti che musichetta è molto sexy, guarda, questa roba mazza, più bello del Barry White questo accantato allora già puliti, già lavati vai, vai, vai profumati adesso, con che ricordiamo? non dobbiamo fare in modo banale, parmigiano e le solite cose facciamo così damogli un gusto diverso quindi, che faccio? mentuccia che trovo che sta benissimo quindi la trito a coltello sottile, 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 sottile aiutatemi a dire sottile, sottile ecco qua, ecco qua, qua dentro poi, un'altra cosa, un'altra cosa un po' di limone, ci sta bene, così buono, sempre i limoni buoni, tutto buono allora, noi dobbiamo usare 3-4 ingredienti ma di qualità non facciamo le cose di quella roba che non è buono intanto non viene bene perché senza anima, senza senza sapore, senza gusto olio di francia, ci sta bene qui un pizzico di sale poi, pepe nero bello, abbondante frustina metti i funghi qui guardate che belli, sottili sottili che roba che robetta metterò un altro pochino di olio l'olio condito, l'olio condito quindi l'emolzione di olio, limone, mentuccia, sale e pepe guardate qua, guardate che spettacolo guardate che roba, guardate che roba guardate che roba goloso, goloso non sono cose golose poi, ce lo vogliamo mettere? ce lo vogliamo mettere? ci sta bene così, parmigiano reggiano vai, così due scagliette, così allora, voi direte ma non lo assaggi, non mi fai sapere come è buono allora, mia madre dice sempre una cosa quando si mangiano i funghi e le lumache è obbligatorio fare una cosa bere il vino buonissimo, semplice e di stagione buon appetito a tutti quanti un bacio vi è piaciuto questo video? certo che sì, era bellissimo quindi, iscrivetevi al mio canale così non vi perdete mai più un mio video e poi, commentate che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti e poi, i like e damosela mostra questi like un bacio e un abbraccio a tutti